L'obiettivo nostro come l'anno scorso è la salvezza, abbiamo già quasi completato la rosa, è una squadra giovane di 2001 che io già allenavo, il più vecchio se pensiamo ha 26 anni a parte il portiere che ci porta esperienza, però è una squadra che ha fatto bene, ha fatto bene quest'anno, è una squadra che ha tre anni che gioca insieme, stiamo lavorando per migliorare, per mantenere la categoria. Non sarà facile perché ci saranno cinque o sei squadre che ambiscono a salire di categoria e poi le rimanenti lotteranno per la retrocessione. Un campionato anomalo perché per il covid sicuramente magari speriamo che non ci crei problemi durante il campionato per qualcuno che magari potrà essere assente per quanto riguarda influenze o il covid, però sono fiducioso che sarà un campionato soddisfacente. attenzione. Grazie. Grazie.